Musica Musica Ben a tutti ragazzi siamo qui Oggi sulla demo di FIFA 15 pronti per Una partita in singolo Perché ovviamente Fastlane vuole bene Non fa funzionare la connessione quando ci vuole E non ti sanno spiegare il perché Io direi che facciamo casuale Contro casuale Più o meno direi che ci siamo Ragazzi FIFA 15 Poi è la campione Ha ucciso Rafa in port Vabbè Allora il bunker non funziona più Grazie a Dio E hanno provato quello E gol Oddio Ma stiamo scherfando Dai Rafa Tra l'altro del tuo Quanto hai 75 mi sembra aver visto Cosa fa Iguaino Iguaino Non sei mosso Iguaino 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 Non ti sei mosso Ma proprio Mai nella vita ti sei mosso Hai in signe Aggressivo No vabbè queste cose non si possono fare Sono illegali Cosa Oh mio dio Questo è gol Il Napoli che tra l'altro è l'unica squadra di Serie A disponibile Rafa è la cazzo di palla Unica squadra disponibile della Serie A Che tra l'altro ha subito parecchi downgrade Di oro ce ne sono veramente pochi Della Serie A Quest'anno su ultime team Troppo lento Per cui Perché c'è scritto comando Riconoscimento vocale Non o mio dio Rafa Ragazzi ci stanno massacrando Non è per dire qualcosa Bravo Iguaino Bravo Iguaino I tuoi passaggi illuminanti Veramente Meglio dell'Enel No Oddio Cosa fa? Va bene Andiamo avanti Dai Iguaino Ma porca miseria Ho capito che non è tipo 14 Amsic 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 Corri Oh 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 Mio dio 1-0 Amsic Marek Non è per le sostituzioni Non so perché a me non si sia aperto Ah ma rivediamolo Almeno una volta Un po' di tutto Il portiere Sì Cioè le paride prima Mi preparava di tutto Avevo il portiere Contro il Boca Junior Mi faceva delle parate Mi ha parata una Quando usavo il Chelsea Che Ha tirato una manata L'ha lasciata lì la palla Questo qua Non fare un tiro centrale Dai Ragazzi Ah non so perché Sia così difficile Prendergli il pallone Non ci vanno addosso Sto anche i dici pressing Stanno fermi Cosa gli fa parecchio incazzare Vai Iguain Dal lato dei tuoi 80 di velocità Attenzione Ascine Come l'ha parata E vede cosa Questi portieri mi ricordano Tanto quelli di Pro Club Umani Dove Devi spiazzare Cioè devi Dovinare l'angolo Dove non si butta Cioè devi cercare sempre Di sorprenderli Se si indovinano l'angolo Praticamente è impossibile Fare gli gol Invece se riesci a spiazzare Per esempio Che l'ho tirata centrale Non se l'aspettava Fatto quel tuffo di merda Non so perché Mi sta venendo su Questa sensazione Non che sia giusta Per carità Però Come avete Movenze molto più belle Comunque Assolutamente Nulla da dire Sto avendo un culo Grande come una casa Ragazzi Stanno massacrando Con Raffal in porta Trappali Palle che gli vengono tirate addosso Si sta salvando Va detto Raffal Lo cazzo ti sei buttato però Bravo Calleone Verticalizza Verticalizza Iguoi incorri Rigore Arbitro No No vabbè Questo non era rigore Stai scherzando No Oh mio dio Ragazzi Siamo una cosa Da campo Difesa totale Stai scherzando Di fatto Stai scherzando C'è quella Addirittura Dopo Ultradifensiva C'è proprio La merda Della merda Tutti dietro La palla Quella che userà La gente Con il 5-4-1 Ma voglia Per prima di passare Grazie Non mai fischiato il rigore Almeno Mi fischi Questo Ti ringrazio No ragazzi No ragazzi Oh mio dio Raffal Si è abitato Ma una volta Se è un aborto Come un cortiere Porca tutta Ma un po' di salsicata No Non è solo Ma un po' di salsicata 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 Stiamo scherzando Stiamo scherzando Stiamo scherzando Una Pandef Mertens Mertens Amsic Vai giù Qua bisogna fare Delle sostituzioni Inutile Inutile Enrique Colombo Madonna La qualità No Non lo so Ci mettiamo Ma il DC a 76 Ah beh Vedo che è bene o male Ragazzi Ragazzi Ok Vai Vabbè Amsic Eh Amsic Uguaino Aspetta Qualcuno che scatti Che fa Cioè Può questa parata Non credo L'abbè non mai fatta Ah Lui trovo Ma quel cazzo Sembra quando sono All'attacco io Ho fatto tre figli Ho fatto Iguaino Senta stammina Possono lo aiuti Perfavore Sta per morire Lavora a viola In passing Stalpato malissimo Non ha più stammina Nessuna A 120esimo Aleggia Il pericolo dei rigori Infatti è così Immeritati come la morte Ma si vai ai rigori Signori Ma guarda Per quello che mi riguarda Possiamo anche lasciarli così Anzi Farei tirare subito Rafa Andiamo avanti E il Giorginio Primo rigorista Stato BOM Il portiere non c'è neanche provato Lambert contro Rafa Cardiopalma Porca puttana Vedi quello era parato C'era Motore veloce Mertens BOM Ma cosa mi dice che Il rigore è baggato Non l'hanno calato No Rafa Ci stava per arrivare No Iguain Quanto lo tiri male Questo Oh mio dio Un po' le cattiverie Alger Signoria E' un difensore Alger La sbagliata Grande BOM BULAM Potenzatura Oh 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 No Ho sbagliato 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 Stava Non c'è il cazzo Ne prendo Padova Ma dai Enrique BOOM On the line If he fails to score They'll lose it And he's putting it in Oh when it works Martin Great When it doesn't You look at the ball Don't you Ma perché tutti li so Johnson non può tirare Sti di gol Come si sta facendo Piccolo però Il coso verde Ma perché sta centrale Col portiere Deficente All the pressure Is on the kicktaker Here If he doesn't score They'll lose the game C Profei Realmente Ha servito a qualcosa Il balletto Signori E' finita Partita più Inmeritata Del mondo Ma abbiamo vinto 7 a 6 Dico Grazie mille Per avermi seguito Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Scusate per L'audio Ma Purtroppo le cuffie Sono queste Come avete visto Per Destiny Guardate che traversa Che ha preso E Ci vediamo Al prossimo video Probabilmente Su FIFA 15 Completo Oppure Su un'altra partita Della demo Adesso lo diamo Bella a tutti